4.5 Polidoro da Lanciano, Madonna con bambino, San Giovanni Evangelista e San Nicola, prima metà del secolo XVI, olio su tavola. La tavola, che raffigura la Madonna con bambino tra San Giovanni Evangelista e San Nicola di Bari, si trovava fino al 1949 nella chiesa di San Nicola a Lanciano, dalla quale venne spostata all'Aquila per restauro. Solo nel 2009 un accordo tra il Ministero e l'Arcidiocesi Frentana ne ha permesso il ritorno a Lanciano. La strutturazione spaziale del dipinto è derivata da analoghe composizioni venete. Pur essendo stato restaurato nel 1952, sono ancora visibili le lacune che imperiscono una valida considerazione dell'opera. Il colore ha perduto quella tonalità calda, di derivazione tizianesca, che originariamente doveva possedere e mostra oggi un colore abbastanza piatto e uniforme. Il dipinto fu individuato dal Berenson nel 1912 e attribuito a Polidoro de Renzi da Lanciano, attribuzione confermata dal Venturi nel 1920. Polidoro da Lanciano nacque a Lanciano circa nel 1515 da Paolo, figlio di Renzo, identificato tradizionalmente con un apprezzato ceramista. Non si hanno notizie sugli anni della sua giovinezza e della formazione. Dovete stabilirsi nella contrada San Pantaleone di Venezia, dove esisteva una comunità di immigrati abruzzesi, verso la metà degli anni venti del XVI secolo. Il presunto anno di nascita è stato ricavato dal suo testamento in articolo mortis del 1565, nel quale si dichiara cinquantenne. Realizzò soprattutto dipinti a carattere devozionale per committenti privati. Tra le sue opere, Il Convito degli Dei, Napoli, Museo di Capodimonte, Cristo e l'Adultera, Londra, Walpole Collection, La Discesa dello Spirito Santo, Venezia, Gallerie dell'Accademia, e Il Riposo della Sacra Famiglia con l'infante Giovanni Battista, ora a Louvre. Grazie a tutti.